Laiu, basta, momento di silenzio Vabbè vengono le cotte pure io Sì, ho saputo spugnare da sera Non aveva shotgun questo, vero? Sì, l'ha preso Marcozzi, mi sa 3-5 golpi Beh, l'ho trovato Ce n'è uno qua, un pa' della nonna verde C'è tanta gente alle case Avete bende, raga? Ho il medico Ho il medico C'è una cassa sopra A dove? Non va Non ti vede Grazie, mio amico Che tipi aggressive Allora, spiatevi quelli Vabbè, io non tocco niente Spiatevi tutti gli scudini Eh, so pure al centro delle fabbriche O so, indicavi quelli Guarda, li vedo da ovest proprio da me sono Stanno pure alle fabbriche Sì, sì, sì Da destra Da ovest, è stato uno Che c'è il video Da ovest Beh, non devi sempre stare Vabbè, non tocco niente Vabbè, mi siete morti No Stavo ancora giocando Dove cazzo hanno queste? Quante ore hai in totale su H1? Le bronze Come? Quante ore hai in totale su H1? Pochissime 300-400, quante è? Boh, cose del genere Mi ha già spaccava i pauri Ultima da quattro Mabbo Raga, Dusty Depot Eh, vanno stilata Ah, l'hai fatta tu Eh, c'è un altro anche Dusty Depot Uno dietro di te, Marco Uno atterrato Ciao, ciao Raga, chi è che sta continuando a uscire? Uno a Dusty C'è uno davanti Sì Ok Oh, veste martedì Due sanno al fortino davanti a noi Due? Sì E mi puoi pushar Ok Oh, menti Sì, sì Contro l'audio sta skin Questa qua di sto pesce Proprio brutta Raga Uno È proprio con HP Qua dietro È buono Che è il 2x70 Stanno scudini qua Mh, mh Pesce, pesce Prendi le bende Quanti scudini hai, Alim? Quattro E dai dai, dai, droppa, droppa Mh, marco, c'è Eh, marco, c'è Eh, ci l'ho rubato io Martens Allora Via, via, raga Thank you Perchè ti faccio il prize, brado Parti tu? Mh, mh Ok Ehm Devo farmare un po', ragazzi Poi, vieni Dove? Dove? Ho droppato 500 di legge Alio non mi ha risposto Però, eh Se niente è la più bella, però Ehi Non ho capito, Paolo, ma hai fatto una domanda Dove? No, ad Alia non gli ho fatto Ecco, da se dei pot Cosa, Alia? Che cosa? Ho fatto una domanda e non mi ha risposto ancora Dim Ma tu Ma va bene Ci fa Oh, ci si Rob Bravo Ma tu Io devo vedere, ma tu si chiude Si chiude Si chiude Ma tu si chiude Ma quando facciamo una riunione a Milano, raga Ben presto Ben presto Che brutta situazione Oh, dai Ma quando cazzo avanza? Voglio farli scoppiare Ehi Eccolo Eccolo là Bastardo Uno giù A due dieci Buono E' ancora blu, eh A sinistra è andato, però Ancora uno, eh A sud ovest E mi spara a me Beh, quelli devono avanzare intanto Oh, Alian Avvicinati Tanti sti bobbi ma te li ritrovi qua Uno l'ho noccato Con quell'altro fa fino a nord-est noccato uno Nici ma prendo, nici Sì Stai fatendo ancora, Alian? Sì, sì Hanno rianimate quello che ho noccato E' poca vita E' infatti l'ho atterrato di nuovo Non ha piaciuto, eh l'altro Sì, ma attenzione, Alian Sei da solo E' l'unico questo Vai a cagare Ma vai a cagare Dov'è che stanno Alian? E' a due dieci E' sul testo Fuori safe Ah, ecco mi pusha, mi pusha Sono passato, però E' stato? E' stato una volta? E' stato un'altra volta? E' qua Questo a destra ho evitato, Marco, eh? C'ha... 60 HP Attenzione che ti può mettere trappole Altri due player davanti a me, Marco Eh, spai che mi tiro uno scudo Vabbè, intanto scappano Qui c'è un medikit, ce la faccio a tirarmelo? Sì, sì E' il Dark Voyager o l'altro? Ehm... Troppo lontano proprio da Ruskin Sono due team in mezzo Belli Ehm... 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 Il gabinetto m'ha ucciso Ok Ok... Il gabinetto m'ha ucciso Oh, c'era un altro qua E' dietro pure C'era un... Ehm... C'era un altro qua Credo io, c'è Uno è da due sinistra, Marco Ecco l'ho illa Nooo Altro Nooo Arrivo, arrivo, arrivo L'ultimo Ah, vinto, ho già Tranquillo Buona Bella partita Siamo a 2-4-2 Inici, dice Inici Al cavallero oscuro M'ero proprio dimenticato C'è Convinto C'è stato uno shop Martex Ah, sono il 5-9 36 36 kill GG GG guys